e la cosa faresti prendiamo il coffee è un cretino è un opinion leader bravo tutti dai manca una svelta svelta no ciccio no ciccio cosa c'è bello sfilate svelto svelto a destra sinistra di ciccio arrivo ecco buongiorno ciao a che piano? a quarto stia stretto finita la gag c'è la corda c'è la corda c'è la corda sto cazzo c'è la corda c'è la corda dai la scalata è difficile dai dai non posso andare più è finita è finita la gag? no dopo io dovevo dirgli che c'era il sentiero che gag schifa fate volare il piccione grazie ok nanananana 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 e niente siamo chiusi nella torre no si ne usciremo ma chi lo sa ne usciremo a stomaco vuoto quindi adesso andiamo nella Via degli Asini poi c'è il nutrimento e parte il cannibalismo tanto nutrimento dobbiamo decidere il mantenente dinanzi a questa porta che non c'è più se andare per la natura o per la scala allora questa roba nostra ma le medie mica fan tutto sto casino Simo quanto sei contento di questa salita così improvvisa di questa improvvisata stavo bioccando in macchina ma noi cosa abbiamo fatto abbiamo scelto di deviare di scarpinare bene molto bene bellezza dai vieni guarda qui che roba arriva vai dai un altro un altro passo basta adesso ci siamo giovani cominciamo il mistero mi raccomando venite dietro me in fila indiana perché voi ci stirano è in silenzio e dopo finiscono male io ci fissi io ci fissi io ci fissi e io ci fissi non ci fissi che fissi C'è tutto il kit anti-vampiro Già il nome è qualcosa di molto scuro E anche questa zona qui come potete vedere Da strada Da strada Da strada Da strada Stiamo entrando proprio nei muri Gli architrami Questa è una pietra serena Dovevo usare degli stupiti proprio E' una pietra Ma un pescetto davanti C'è anche il lumino La schiza è completamente sconsacrata Un'altra volta Vedete là ho fatto un alterino Io mi sono sconsacrata Questa è una pietra Puoi chiedere? Ah è vero Ecco lì Erano questi due punti energetici Adesso ci spiega Questa è una pietra Questa è una pietra Questa è un'altra da Questa è una pietra Esatto, quella roba lì dovrebbe essere il gesso Corri, corri, corri da ciccio, corri, corri Corri, 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 corri Corri, 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 corri Corri, 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 corri 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 Mamaci quanto sarà meglio di veramente Adesso spariamo tutti, facciamo il calaghetto della sparizione, lontani, lontani. Con Maria ero mia, ma tu mi ero, tu mi ho mezzo, sogna un mio volteggio, umano, da gappianone. Aiuto, aiuto!